Mailboxes a Cava dei Tirreni, unica sede in via Vittorio Veneto 19, è al tuo fianco per spedizioni e imballaggio, domiciliazione, soluzioni di marketing, di micrologistica e soluzioni per l'e-commerce. Proteggi i tuoi oggetti di valore con Safe Value. Prova la nostra professionalità. Ti aspettiamo! Da domani, sabato 29 giugno, in costiera amalfitana sarà possibile spostarsi attraverso un nuovo servizio di trasporto rivoluzionario, promosso dal nuovo Consorzio Mobilità Sostenibile AmalfiCost. Il nuovo sistema di trasporto parte in via sperimentale con tre direttrici turistiche, la Green Line, la Blue Line e la Orange Line, ma ha l'obiettivo di espandersi. Il sistema di prenotazione è semplice e intuitivo, infatti gli utenti possono controllare online la disponibilità dei posti a sedere e, dopo aver prenotato, riceveranno un QR code da mostrare a bordo all'autista. Le tre linee turistiche sono progettate per migliorare l'accessibilità e l'esperienza di viaggio lungo le strade della costiera amalfitana. In particolare, la Green Line collega Positano ad Amalfi, confermate intermedie, e il costo del biglietto è di 10 euro. La Blue Line, invece, collega Maiori ad Amalfi e viceversa, con un costo di 5 euro per ogni biglietto. Ed infine, la Orange Line copre la tratta Ravello Amalfi ad un prezzo di 7 euro. Questo sistema di trasporti è stato pensato e approvato per dare una risposta concreta alle esigenze di mobilità sul territorio, in vista della ZTL territoriale. Infatti, la ZTL territoriale era solo un'idea 5 anni fa, ma adesso è quasi pronta. Il 30 maggio, la Regione Campania ha finanziato la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica e il soggetto attuatore sarà il Comune di Amalfi. Le regole della ZTL saranno poi stabilite dai sindaci e dai proprietari delle strade. Grazie. Grazie.